Quali sono le conoscenze più avanzate in tema di rischio coronarico e qual è lo stato dell'arte sul imaging non invasivo per la ricerca delle lesioni aterosclerotiche? Ne ha parlato a Firenze durante Conoscere e curare il cuore 2021 il professor Francesco Prati al quale abbiamo chiesto di illustrarci gli aspetti fondamentali e più importanti sotto il profilo clinico di queste tematiche. Quali sono le più importanti tecniche di imaging per lo studio non invasivo dell'aterosclerosi e quali punti di forza o limiti possono presentare? Ne abbiamo più di una. Innanzitutto è possibile studiare le arterie con una semplice ecografia a livello delle arterie femorali quindi mettendo la sonda sul linguine e si possono vedere delle placche aterosclerotiche a partire dalla quarta decade. Possiamo applicare la stessa tecnica nel distretto carotideo analizzando quindi le arterie del collo oppure possiamo utilizzare una tecnica diversa che è il calcium score che va a analizzare la presenza di calcio nelle arterie del cuore. E infine la tecnica forse più completa che è l'attack coronarica che ci dice anche se esistono dei restringimenti significativi nell'albero coronarico. Che ruolo ricopre il rischio genetico? Il rischio genetico ha un ruolo a mio modo di vedere ancora un po' incerto. È molto promettente, molto interessante, con il rischio genetico riusciamo a capire se un soggetto può a un certo punto della vita sviluppare aterosclerosi, cosa che però possiamo anche, come abbiamo appena ricordato, mettere facilmente in evidenza con una semplice valutazione non invasiva. Ora diciamo che queste tecniche, il rischio poligenico forse in futuro ci potrà dare delle sorprese molto positive andando a individuare proprio il rischio che può avere un determinato individuo di sviluppare un infarto miocardico al di là della presenza dell'aterosclerosi e questo è un po' una cosa che probabilmente in futuro potremmo vedere. Quando e come ricercare l'aterosclerosi? Io credo che l'aterosclerosi vada ricercata a partire dalla quinta decada di vita per un uomo e più o meno anche per una donna che è il periodo in cui vanno in menopausa, applicando quelle metodiche a cui facevo riferimento prima. Forse a 40 anni si può anche anticipare un po' le cose impiegando un ecodoppler delle arterie femorali che si ammalano un po' prima rispetto alle carotide e le arterie del cuore. In un futuro probabilmente attraverso delle TAC sofisticate che abbinano anche la PET potremmo avere delle informazioni molto importanti non solo sulla presenza ed estensione dell'aterosclerosi ma anche sulla composizione e individuare i soggetti che hanno delle placche che possiamo definire cattive e che potrebbero causare magari un infarto del mio cardio. Alla luce delle conoscenze attuali quali aspetti sono ancora da esplorare in relazione al rischio coronarico? È da esplorare, l'ho accennato diciamo precedentemente ed è molto importante comprendere quali soggetti abbiano una terosclerosi che possiamo definire pericolosa. Ecco ci si può arrivare con delle tecniche di imaging, ci si può arrivare con uno scor poligenico, c'è da lavorare per fare una stratificazione del rischio ancora più completa.